Un problema? La sindaca Raggi? Non la sindaca, però Roma e l'amministrazione restano un problema. È un'esperienza alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più. Senza nascondere le difficoltà... Come fa a distinguere Raggi dall'amministrazione? No, nel senso che non è un problema personale della Raggi. Nel senso che è un progetto politico guidato sicuramente da Virginia Raggi, ma nel quale siamo, diciamo, in qualche modo corresponsabili tutti come Movimento 5 Stelle, non personalizzo mai il tema. Quindi sicuramente è stata un'esperienza difficile e faticosa che non ha fino ad oggi dato sicuramente tutto quello che si aspettavano i cittadini da questo cambiamento che hanno votato qualche anno fa.